Ecco l'inizio di Steve Fox dell'episodio personaggio di Tekken 8. Dopo aver scoperto di essere figlio di Nina Williams, Steve Fox risolse il mistero sulla propria ragione. Non aveva più uno scopo, ma una visita dei partner d'allenamento, Paul Fenix e Marshall Love. Fortunatamente venne a sapere del King of Iron Fist Tournament. Steve decise di partecipare al torneo e usare i fondi della Mishima Zaibatsu per il suo nuovo obiettivo. Non può cambiare il passato, ma può forgiare il futuro. Vi saluto, iscrivetevi al canale e mettete un mi piace.